Luigi Nava del Movimento 5 Stelle, buongiorno senatore. Buongiorno a lei. PD che però ieri, vengo da lei, Nave ha votato insieme ai 5 Stelle contro questa proposta nonostante all'interno del partito, come abbiamo visto e sentito, poi saremo nella seconda parte di Start anche fra gli altri con il sindaco Manfredi, ci siano stati insomma non pochi malumori rispetto a questa decisione. Io però le vorrei chiedere una cosa, voi come 5 Stelle avete sempre avuto la posizione su due mandati, su qualsiasi aspetto anche per quanto riguarda il mandato parlamentare. In una recente intervista il ministro Calderoli velatamente minacciava se non passa il terzo mandato per i governatori allora provvederemo anche a ragionare su due mandati anche soltanto per i parlamentari. Questo tipo di provvedimento, se fosse la Lega in qualche modo a presentarlo, potrebbe invece vedere i 5 Stelle a favore? Guardi, proprio come lei avanzava, noi come Movimento 5 Stelle non entriamo proprio in questa dialettica dei mandati, cioè riteniamo che sia semplicemente un balletto di poltrone, noi intendiamo che insomma la politica debba interessarsi della cittadinanza e dei cittadini, cioè non è possibile stare lì a vedersi la storia dei balletti sulla poltrona quando poi i cittadini non riescono ad arrivare a fine mese e quello è il problema. Sembra sempre una questione tutt'altro che interessante per i cittadini, ma semplicemente per i politici, è uno scambio di poltrone, a noi siamo esterni a questa dialettica. Quindi se la Lega propone limitare i due mandati anche per i parlamentari? Ma sì, noi lo facciamo da sempre, il Movimento 5 Stelle ha i limiti dei due mandati, non viene toccato quindi perché no? Ma resta comunque il problema di distrazione sui cittadini, perché il vero problema è questo, cioè in che condizioni si trova attualmente l'Italia con i cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese, quello è il vero elemento. Andremo a parlare anche di questo. Abbiamo tempo, Nave, fra l'altro appunto il Presidente del Consiglio in questi giorni, ieri l'ho anche annunciato, farà un G7, proprio il suo primo G7 a presidenza italiana sul tema Ucraina, probabilmente ieri l'ho anticipato, ma insomma ancora non c'è ufficialità, quindi ci rimaniamo col condizionale, addirittura anche con la presenza del Presidente Zelensky, secondo lei Meloni fa bene a dedicare a questa questione, questa attenzione anche all'Ucraina, se vogliamo il primo G7 con la sua presidenza, con la sua guida? Beh, guardi, in realtà bisogna pensare anche in che modo uscirne da questo conflitto che sta creando problemi, quindi il problema resta quello, in che modo l'Europa può affrontare, visto che né dall'Europa né dagli Stati Uniti arriva una proposta concreta per questo cesso del fuoco, in realtà questa guerra sta costando, sta costando in termini di vittime, in termini economici, quindi benvenga l'interesse dell'Italia, in che modo, continuando ad inviare armi, in che modo l'Italia sta contribuendo, ad oggi siamo quasi a un miliardo e due di costi dei contribuenti italiani per sostenere questa guerra che da sempre è stata ritenuta, come dire, Biden ha sostenuto che i territori occupati non saranno più recuperati, oppure come il Capo di Stato Maggiore che sostiene che questa guerra all'Ucraina non potrebbe mai vingerla, quindi in realtà il problema fondamentale resta mettere su quello che può essere un processo di pace, altrimenti continuando a mandare armi che tra l'altro continueranno ad arrivare nonostante, seppure si decidesse oggi, di stoppare l'invio delle armi, per quello che già in precedenza deve arrivare, arriverà comunque, ma nonostante questo l'Ucraina ha perso quasi 50 mila uomini, mancano uomini, il fronte ucraino contro la Russia ha dei buchi enormi che non riescono ad essere gestiti dagli uomini, non mancano le armi all'Ucraina in questo momento, mancano gli uomini che possono farle sparare. L'Ucraina non può coscrivere obbligatoriamente i giovani in Siberia o nella parte orientale del paese per andare a combattere. Quindi cosa facciamo? Inviamo uomini? No, non inviamo uomini assolutamente, nessuno lo mette in considerazione, però io le chiedo proprio ad una settimana dall'uccisione di Alexei Navalny, perché era venerdì scorso quando la notizia venne diffusa al mondo, ma veramente ancora si pensa che smettere di inviare armi all'Ucraina possa essere una soluzione per questo conflitto, perché io sono e posso essere come penso tutti noi a partire ovviamente da Papa Francesco d'accordo sull'idea che bisogna lavorare per la pace, che bisogna costruire una via di pace, però non vedo perché le due cose si debbano escludere a vicenda, cioè come si può pensare di smettere di inviare armi all'Ucraina e non riflettere sul fatto che questo vorrebbe dire condannarla a essere completamente invasa dalla Russia. Chiedi a me? Eh certo, nave, sì. Guardi, è molto semplice, se continuiamo ad inviare armi, parallelamente a far partire un processo di pace o un processo che sia condivisibile, se noi non continuiamo ad inviare armi la Russia continuerà ad attaccare, allora il processo deve essere almeno quantomeno in tre step. Ah perché se noi non inviamo armi la Russia non attacca, secondo lei? Se contemporaneamente si avvia un processo di pace, un processo credibile da parte dell'Europa e della Russia è ovvio che si inizia, la Russia non ha mai ricevuto un progetto, un tavolo di negoziazione, non ci è messato finora, non uno credibile da parte della Russia né dalla parte degli Stati Uniti né dalla parte dell'Europa. Guardi, è successo solo quando è stato la Turchia e la Siria e Israele hanno provato che in quel momento a fare un tavolo di negoziato, in quel caso la Russia ha lasciato la regione di Kiev, quindi in realtà bisogna provarci a fare un tavolo, ma non c'è, quindi in che modo si continua sempre solo con la controoffensiva, quindi in questo caso continuiamo ad inviare armi, continuano a morire uomini, non si riesce a gestire i confini, la Russia ovviamente che ha una supremiazia anche in termini di uomini, in termini di armi, è uscita di nuova la parte sull'aviazione che è molto forte, quindi guardi, cosa vogliamo all'estinzione dell'Ucraina? Dobbiamo essere credibili con un tavolo di negoziazione, che non c'è, di fatto è quello che manca, non solo le armi che mancano, all'Ucraina non mancano le armi, non mancano le armi, ripeto, manca chi le può sparare, mancano gli uomini, non ci sono più uomini. Vi chiedo insomma di limitare i vostri interventi a massimo un minuto, però volevo fare un'ultima domanda a nave sulla Sardegna, perché ovviamente c'è grande attenzione, la candidata dei 5 Stelle sostenuta ovviamente anche dal PD, seppure il centrosista si è spaccato con anche la candidatura di Sorul, molti guardano a questo appuntamento come un possibile laboratorio anche per una vostra futura alleanza su tutte quelle che sono le partite, anche voi date questo sguardo in questa direzione, se le cose però non dovessero invece andare come sperate, a quel punto si riaprirebbe tutto il gioco dell'alleanza con il PD o no? Non è poi così dirimente la Sardegna? No guardi, noi non entriamo nel gioco di accordi di palazzo o strutturali, in questo caso c'è un progetto per i sardi, un progetto credibile che va a rompere la politica del governatorato uscente, che è stato dichiarato il peggiore di tutti gli anni, quindi in questo caso i sardi sembrano crederci e siamo anche convinti e fiduciosi che all'atto del voto vadano poi a votare la nostra candidata Conte, quello è il problema, non ci sono accordi previsti o fatti a tappeto o di palazzo, laddove si trovano temi congiunti, laddove si riesce a coordinarsi su temi e prospettive allora sì, quindi non è dirimente assolutamente l'esito e la funzione di quello che sta avvenendo dei sardegni.